In Italia si funziona così, se uno merita non è ammirato ma è invidiato e quindi questa invidia lo fa distruggere Noi chiamiamo un po' il guru di ogni settore, qualsiasi esso sia Ti senti un po' il guru della musica in Italia? Beh, è una cosa grossa, guru della musica io non mi sento Anzi, sento che dovrei essere un po' più autorizzato, autorevole un po' più rispettato, rispetto a quello che invece è la realtà Quindi non solo non mi sento un guru, mi sento non degnamente trattato Quindi il guru viene rispettato Perché questo se posso? Beh, perché ho perso la credibilità Perché esiste sia da una parte tutto un aspetto che mi ha diffamato pubblicamente Cioè la diffamazione che è stata fatta di me è un danciare un discredito che è costruito sulla base di una volontà distruttiva, di una volontà di annientamento Quindi in Italia funziona così Se uno merita non è ammirato ma è invidiato Quindi questa invidia lo fa distruggere da parte dei colleghi Da parte dei superiori che temono che possa diventare un competitor Tutte le volte che in Italia c'è l'eccellenza Si innescano dei meccanismi che tendono a rimuovere quell'eccellenza Non a magnificarla E questo in ogni ambito, non solo in quello della musica o della televisione Ovunque Bisogna stare attenti E scatta quel che si chiama il mobbing Il mobbing è l'azione lesiva nei confronti di uno da parte di molti sul lavoro Il lavoro è non nella famiglia Il mobbing è proprio sul lavoro Questa parola qua è importante perché se noi non capiamo cosa significa Noi non riusciamo a chiamarlo reato Siccome è un reato In tutto il mondo il mobbing è punito proprio legalmente Ed è rimosso chi lo attua Il mobber si chiama Perché dovete vedere il momento in cui contro uno ci sono tanti Che può essere sia verticale che orizzontale Quando è verticale sono i suoi superiori ad essere contro di lui Quando è orizzontale sono i suoi pari Ma che si mettono contro per varie alleanze In varie situazioni varie E lo fanno sentire psicologicamente da solo Quel sentimento di essere psicologicamente da solo Ti annienza È un danno pazzesco Ossia proprio emotivo E professionale Tu perdi efficienza Perdi lucidità Non sei più così bravo come dovresti Non hai spazio di lavoro Non hai margine Hai soltanto da risolvere problemi Piuttosto che costruire delle idee E se questo si perpetua per più di sei mesi Questo diventa un reato Questa è la legge italiana Se tu riesci a dimostrare Che ti è stato fatto questo per più di sei mesi Questi rischiano Il problema è che in Italia Nessun tribunale ha mai condannato nessuno per mobbing Perché? Te credo lo facciamo tutti i giorni Lo facciamo sempre Noi viviamo sul mobbing Noi viviamo Quindi io sono proprio al centro di un mobbing Da dieci anni E questo Alla fine Che risultati ha dato A me Mi ha devastato Da un punto di vista proprio psico emotivo Il pubblico È convinto che io sia un pazzo Nel settore non mi danno lavoro E sono emarginato E ti pare che io possa chiamarmi guru Io però non credo che il pubblico ti pensa che tu sia un pazzo Io credo che Morgan Come no? Morgan secondo me Morgan secondo me Un pazzo Tutti lo pensano Morgan secondo me Ma tu guarda sui social Ma secondo me nel collettivo Tu metti una cosa Tu sei genio e sregolatezza Io non sono sregolatezza Perché cosa sto facendo di sregolato Ho messo la felucca È una cosa No per dire Io sono creativo È diverso Allora Scambiare la creatività per pazzia È una cosa È sbagliata Scambiare la creatività per follia O per O aver paura Della creatività Perché dici Ecco La pazzia È una cosa omicida La pazzia è una violenza contro gli altri La creatività La fantasia Non sono pazzia Sono arte Che è una roba diversa Ma cos'è per te la creatività? È lo spazio Lo spaziare con la mente Cioè andare lontano Andare lontano Portare qui quel che non c'è qui Quindi Perché A un certo punto La creatività è inventare da zero È inventare l'invenzione Ecco lo spritz Ecco lo spritz Questa è creatività Lo spritz è in questo caso Ma sì Poi me l'ho fatto io Bello creativo Rappresenta creatività Perché No questo Perché è il diversivo È una cosa che aggiunge È una cosa che colora È una cosa che Capito? Quanti motivi per cui chiamare creatività Questo È un bicchiere troppo grande Per essere un bicchiere Già io quando vedo il bicchiere così grande Dico wow Lo vedo anch'io Lo voglio anch'io Poi se c'è dentro una roba arancione Divento subito Un bambino Contento Dico chissà com'è buona Poi lo bevo Com'è? No E perde tutta la creatività E perde tutta la creatività Dico chissà com'è buona